La Juventus su un nuovo talento italiano. Lo so ragazzi di che cosa parliamo, lo so di che cosa stiamo parlando, lo so anche che la maggior parte di voi non conoscerà questo ragazzo, ma comunque alla luce delle prestazioni che questo ragazzo sta offrendo voglio metterlo un po' in evidenza perché non ne ha parlato praticamente nessuno. E non mi sembra giusto comunque che un ragazzo che nonostante abbia fatto buone prestazioni rimanga totalmente all'oscuro all'interno del contesto. La Juventus è sempre attenta ai talenti di carattere internazionale. Uno dei talenti che in Italia sta offrendo buone prestazioni in un campionato sicuramente minore perché parliamo della Lega Pro, parliamo della Serie C, è Tommaso Barbieri. Ora, io lo so, appena mi avete sentito di sto nome italiano della Serie C già state a dire, palle Matt, ma che ce frega a noi. Però ragazzi è importante perché la Juventus negli ultimi anni ha cambiato un po' assetto. Una volta tu prendevi talenti, giovani, li mettevi direttamente nella primavera. Oggi c'è un qualcosa di intermedio. Oggi fra prima squadra e primavera esiste l'Under 23 che è una sorta di passaggio a metà diciamo. Sei troppo forte per essere in primavera, sei troppo debole per essere in prima squadra. Ecco Barbieri qualora dovesse essere preso a gennaio verrà inserito all'interno della squadra Under 23. Perché? Ha già parlato con Pecchia la dirigenza della Juventus. Pecchia, sapete, è l'allenatore della Juve Under 23. Pecchia si è detto disponibile a dare molto spazio a sto ragazzo. Ma chi è questo ragazzino? Chi è Barbieri? Giocatore del Novara, gioca in Lega Pro, gioca con una certa continuità, ha anche segnato un gol, è un buon giocatore, gioca come terzino. Ed è un giocatore molto importante per gli equilibri della squadra piemontese. Quindi la Juventus sta cercando di prendere questo ragazzo e di portarlo nell'Under 23. Palatici pare se ne sia innamorato durante la visione di una partita del Novara e quindi di conseguenza se ne sta facendo di tutto per portarlo già a gennaio. Che tipo di talento è? Parliamo di un talento molto 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 interessante che tuttavia non ha le caratteristiche che uno potrebbe aspettarsi. Non è un terzino veloce, non è rapidissimo, però è un giocatore che compensa qualità del genere con un altro tipo di qualità. Ad esempio mi viene in mente la grande capacità difensiva che ha e nonostante l'età molto giovane, comunque ragazzi, molto molto, voglio dire, un'età giovanissima, 17 anni, ha una personalità non indifferente. Il discorso della velocità si può migliorare nel tempo? Si può cercare di farlo diventare in maniera diversa? Una persona a quell'età, dal punto di vista calcistico, ha tanto tempo ancora di migliorare, quindi non è che sono preoccupato perché Barbieri non è velocissimo. Sono preoccupato qualora Barbieri dovesse arrivare alla Juventus e dovesse fare scena muta, perché quello vorrebbe dire che la Juve ci ha visto male. Però siccome io l'ho visto giocare sto ragazzo e nonostante non mi abbia stupito dal punto di vista della velocità, sono anche consapevole che ci sono altre doti. Il cross, ad esempio, è bravissimo nel crossare, è bravissimo a difendere, è bravissimo ad andare in tackle, quindi ha tante 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 qualità. Che secondo me questo ragazzo potrebbe, e ve lo dico con tutta la sincerità del mondo, usare in bianco nero. Siamo in un'epoca però in cui c'è bisogno di fare una selezione. Qualche tempo fa ve l'ho raccontato, la UEFA ha deciso che non bisogna più inserire all'interno delle proprie liste di serati un numero illimitato di giocatori. Quindi non puoi più, numero illimitato di persone, numero illimitato di talenti, quindi non puoi più avere un numero totale, non puoi più avere 500 giocatori tra quelli che hai in rosa, under 23, primavera, in pressione, quelli che prendi in pressione. Non puoi più avere questo, c'è un limite. Quindi quando la Juventus vende un giovane talento è perché sta facendo una selezione. Evidentemente quel ragazzo non è stato valutato all'altezza del contesto. Cosa mi dice che tutto ciò verrà utilizzato per questo talento? Vedremo. Cioè può essere pure che la Juventus troverà barbieri e lo troverà talmente speciale da consentirgli di arrivare in prima squadra. Vedremo cosa succederà. Fatemi sapere.